Il quartiere Fanella e Fano 2 si sono svegliate questa mattina sotto l'incubo di che cosa era accaduto alle prime luci dell'alba in una casetta divisa in due appartamenti in via Fanella 125b. Nessuno ha visto o udito nulla. Il brusco risveglio è stato dato dagli automezzi della Forza dell'Ordine, Carabinieri e Polizia e del 118 che sono intervenuti a tutta velocità. La chiamata parlava di due morti, marito e moglie, entrambi settantenni, pensionati. Lui, Giuseppe Ricci, un tempo falegname, lei la moglie, Luisa Marconi, scoperti esanimi dal figlio Luca, 49 anni, metalmeccanico alla Profliglass di Fano, visto uscire sconvolto accompagnato dagli agenti. Una tragedia si è abbattuta su questa famiglia in maniera dirompente, probabilmente causata da una serie di debiti non assolti che potrebbero aver generato una lite poi sfociata in questo atto terribile. I cadaveri sono stati rinvenuti, la donna soffocata, l'uomo con la testa fracassata nella camera da letto, sotto stretto il riservo degli inquirenti. Quando poi è entrato il capo della procura, il magistrato di turno, Maria Letizia Fucci, è intervenuta anche la polizia scientifica per fare i rilievi. Sembra che l'omicidio sia avvenuto, ancora non è chiaro se è venuto nel piano superiore o nel piano inferiore. Certo è che la scena che si è presentata agli inquirenti è veramente una scena devastante. Comunque la situazione ha messo a suo quadro un po' tutti i quartieri dove la coppia era molto nota, sia la moglie che il marito erano pensionati e quindi vivevano una vita tranquilla. Sembra però che un'ombra gravasse su di loro. Sembra che la casa dove vivevano sia stata messa all'asta e proprio oggi stesso avrebbero dovuto incontrare il nuovo proprietario. Comunque lo sfratto non era ancora imminente. Non si sa che cosa sia accaduto tra la coppia e il figlio oppure se un estraneo è entrato nella casa. Sconvolto anche tutto il vicinato, incredulo per quanto accaduto. Le due vittime descritte come una coppia tranquilla che aveva molte amicizie e che non aveva mai fatto trasparire i problemi in cui si dibatteva. Questa è la testimonianza di Mirko Barduagni e di altri vicini di casa. Il figlio della coppia che è deciduta, un amico mio, siamo cresciuti insieme, sono attaccato in casa. Io praticamente stamattina mi alzo sempre presto, mi sono svegliato sei tre quarti e prendo il mio caffè. Di solito vedo sempre la coppia in giardino o stendere i panni o in giardino con i fiori. Stamattina era un silenzio, non c'era nessun movimento, era tutto tranquillo. Ho preso la mia bicicletta, avevo da fare delle visite e sono andato a fare le visite. Era una famiglia comunque tranquilla, non dava segni di... No, avevano tanto come tutte le famiglie, la coppia, ci sarà qualcosa all'interno. Io non posso sapere quello che succede nelle case, nessuno può sapere questo. Però non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Luca lo conosco benissimo, siamo cresciuti insieme praticamente, in compagnia. Non so dopo... Cosa possa essere? No, assolutamente, perché io all'inizio credevo anche un incidente, ma aver sentito certe cose mi dispiace tanto. Ieri sera le avete visti per caso? Perché l'ipotesi possa essere venuta anche ieri sera. No, ieri sera non ci ho fatto caso. Ieri sera no. Nel pomeriggio c'era la mamma che faceva le parole crociate, ma... Non sapevate nulla neanche che la casa si stava... No, no, io l'ho imparato oggi e stamattina. Non avete sentito urla questa notte, schiamazzi, nulla? Non abbiamo sentito niente noi. Normale, come tutti i giorni. Ci incontriamo praticamente tutti i giorni, ci salutiamo, ognuno poi fa le sue proprie faccende, il proprio lavoro, quindi la mamma di tanto in tanto ci si ferma a parlare perché sta lì a fare le parole crociate, due parole per innaffiare le piante, ma niente di strano insomma. Poi certe cose, magari certe problematiche, non è che si esternano, non voglio dire a chiunque, quindi... Ma non avevate mai sentito delle liti, delle tensioni? No.